Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Salvini oggi si è svegliato che vuole il ministero della famiglia e della natalità. Natalità, siamo vicino a Natale, vuole il ministero della natalità. Il leader in un incontro ha porte chiuse, ma queste porte chiuse comunque non sono troppo chiuse e c'è addirittura un video dove lui chiede, proprio parlando ai militanti, chiederò il ministero della famiglia e della natalità. L'ipotesi dell'assessora Lombarda con la stessa delega. Così Salvini annuncia, annuncio Vobis, che per quanto mi riguarda chiederò per la Lega alcuni ministeri come quello per la famiglia e la natalità, perché bisogna tornare a mettere al mondo figli senza tanti problemi. Una frase un po' superficialotta, bisogna tornare a mettere al mondo figli senza tanti problemi. I problemi chi gliele risolve? Salvini? Gli telefonano? Il segretario leghista parla a Saronno, in provincia di Varese, in un incontro a porte chiuse, prima tappa del tour di ascolto. Dopo il crollo elettorale Salvini fa il tour di ascolto, ma non si sa che cosa ascolterà, perché tutti inneggiano a Matteo, Matteo, perché lui è il capo, se ti metti contro il capo non è che hai vita lunga nel partito, ovviamente. Quindi lui fa il tour elettorale dell'ascolto, ma lui non vuole ascoltare neanche se stesso. Quando lui si guarda allo specchio, perché abbiamo perso milioni di voti, come mai dal 35 siamo arrivati all'otto? Perché siamo entrati nel governo Draghi e quello che rifarei ci ha fatto perdere voti. In realtà, quando lui era al governo Draghi aveva già perso il 10%. E altri partiti che sono e sono oggi nel governo Draghi non hanno perso la metà dell'elettorato. Per esempio il PD avrà perso l'1%, ma non certo per essere stato nel governo Draghi, ma per altre motivazioni. quindi l'equazione stare al governo Draghi vuol dire perdere il 60-70% dell'elettorato non è vero, non è vero. Però lui, in questo tour dell'ascolto, lui comunque non mette in dubbio se stesso. Lui non c'entra niente per il crollo della Lega, sono fattori esterni e non dipendenti da lui. Quindi nel tour dell'ascolto lui vuole sentirsi ripetere grande capitano, sei entrato nel governo Draghi per salvare l'Italia e hai avuto il ben servito dagli italiani ingrati. Ecco, questo è quello che lui vuol sentirsi dire nel tour dell'ascolto. I militanti l'hanno capito e gli raccontano proprio questa storia. La conferma della richiesta leghista del Ministero della Famiglia e della Natalità arriva dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Con questo governo si spera di concretizzare i progetti che in Parlamento abbiamo più volte sostenuto, cercando di seguire l'esempio delle politiche del Trentino Alto Adige, la regione che ha l'indice di natalità più alto. Il tema del Ministero per la Famiglia per la Lega non è affatto nuovo. Fu ministro del governo Conte 1, il vice segretario di Salvini Lorenzo Fontana. Fu ministra per breve tempo Alessandra Locatelli, che oggi fa l'assessora in Lombardia con la stessa delega. Proprio lei potrebbe essere il nuovo ministro. In realtà, ad oggi, ricopre lo stesso incarico in Consiglio dei Ministri, Erika Stefani, che però potrebbe diventare la responsabile degli affari regionali per dare un impulso alle autonomie regionali, uno dei punti forti del programma leghista. Ma nella Lega circola il nome, come possibile ministro dell'innovazione, di un altro assessore lombardo, Stefano Bolognini. La voce è riemersa ieri con forza dopo che Salvini ha incontrato il presidente di Arexpo, la società che gestisce le aree dove si svolse Expo 2015, Igor De Biasio, e ha parlato delle aree come di quelle in cui potrebbe sorgere proprio il ministero dell'innovazione. Ancora con sta storia che devono portare il ministero a Milano. Caro Salvini, non hai capito che la Meloni non è proprio quella giusta per spostare i ministeri a Milano, nel Grande Nord. Forse non hai capito, Salvini, che la Meloni è a capo di veri patrioti, di veri conservatori, che non hanno nessuna intenzione di fare autonomie che mettono in difficoltà il centro-sud e non avrà nessuna intenzione di fare un ministero a Milano, la città natale di Salvini. Insomma, ma queste sono le basi, cioè non capire che la Meloni è proprio quella sbagliata per fare le cose pro-Nord di Salvini, allora se non riusciamo a capire che queste sono le basi e che la Meloni non lo farà mai, insomma. L'incontro di Saronno, Salvini dè sempre la stessa spiegazione del risultato elettorale. Abbiamo pagato il sostegno al governo Draghi. No, i poveri leghisti hanno pagato il populista Salvini, che non ne fa mezza giusta. Simmetricamente Giorgia Meloni e Fratelli Italia sono diventati il primo partito perché stare all'opposizione è ovviamente più facile. Ecco, la spiegazione di Salvini è questa. Abbiamo pagato il sostegno a Draghi e la Meloni ci ha fregato i voti perché dall'opposizione funziona così. Quindi, altro che tour dell'ascolto, non c'è peggio di chi non vuole ascoltare. Il tour dell'ascolto. Prende la parola Giancarlo Giorgetti. Dice, Salvini mi smentirà, ma non è stato un errore sostenere il governo. I congressi si faranno, tutti. Lo ha promesso Salvini stesso, proprio là, nel cuore della Lombardia, dove l'aria di Fronda soffia più forte. Francesco Speroni gli chiede se i leghisti possano sostenere l'iniziativa di Umberto Bossi e Salvini pare non abbia nulla da obiettare. Se Umberto Bossi fa il Comitato del Nord, è giusto che si faccia il Comitato del Nord. Quindi Salvini fa l'adulatore del vero fondatore della Lega. Insomma, ovviamente quello che poi pensa Salvini non è quello che dice, l'abbiamo parlato in passato, di questo. Vi ricordate quell'intervista alla fidanzata Verdini dove diceva, io e Salvini siamo spesso d'accordo su tante cose, poi lui pubblicamente deve dire un'altra cosa, diversa da quella che pensa, perché lui è a capo di un partito sovranista e quindi in pubblico deve far vedere che pensa una cosa, poi realmente lui magari ne pensa un'altra ed è d'accordo con me. Alla faccia, complimenti alla fidanzata, ci ha svelato quello che abbiamo sempre pensato, che è un falsone. Grazie a tutti e arrivederci. A presto.